Parliamo di elettrico. Ok, sentiamo. Il suo design aerodinamico ti fa... Volare, come un lancio da campione. Verso quanti punti di ricarica? Oltre un milione! Non importa cosa cerchi. La tua Mercedes-Benz è pronta a tutto. Anche ad andare da Londra a Parigi. Voilà! Con una sola ricarica. E con un'autonomia di 560 km puoi avere quad 390 euro al mese. Grazie per la visione!